Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera bentornata Michela Murgia, scrittrice, buonasera bentornato Massimo Galli, primario infettivologo del Sacco di Milano e buonasera bentornato Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Allora arriva il primo DPCM dell'era Draghi per far fronte alla nuova ondata di contagi spinta soprattutto dalla variante inglese e anche dalle altre, ma quella inglese è quella più diffusa in Italia, basterà la stretta sulla scuola? Subito dopo la pubblicità. Professor Galli, abbiamo oggi oltre 17 mila nuovi contagi, sappiamo perché ci è stato detto poco fa dal ministro Speranza e dai suoi colleghi esperti che la variante inglese è ampiamente diffusa sul territorio nazionale, ci sono anche altre varianti come quella brasiliana e quella sudafricana e il governo interviene con il primo DPCM dell'era Draghi. Dal punto di vista epidemiologico, a che punto siamo? Siamo a novembre? Siamo a un anno fa? A che punto siamo della pandemia? E secondo lei basterà questo nuovo DPCM per riuscire a controllare la diffusione più alta adesso dei contagi del virus? Sul nuovo DPCM lo saprà chi avrà vissuto, voglio dire, nel senso che considerando la realtà che dobbiamo affrontare non mi stupirei di necessità di cambiamenti in corsa e sarebbe anche importante che nessuno si scandalizzi di questo. Ripeto un'altra volta che in questo momento a guidare le danze, a dettare il copione è il virus, non siamo noi, ahimè. Questa cosa delle varianti ha letteralmente sparigliato. Mi scusi, ci sarà quindi la necessità di altre ulteriori restrizioni nelle prossime settimane, una cosa che peraltro nemmeno il Ministro Speranza escludeva del tutto stasera? Ovviamente, ovviamente. Mi auguro di no, mi auguro che non sia necessario, mi auguro che possono eventualmente essere mirate ad aree precise del Paese, quindi non vadano per regioni ma per aree particolarmente colpite, mi auguro che in quei contesti si possano combinare più interventi, la vaccinazione, una valutazione a tappeto per quanto riguarda la diffusione dell'infezione in aree ristrette. Queste cose potrebbero aiutare a cercare di venirne fuori. Quanto alla variante inglese, mi perdoni, sono giorni, settimane che batto su questo tasto anche a costo di essere intempestivamente smentito, per cui da questo punto di vista è avvenuto esattamente quello che purtroppo era facile prevedere, non soltanto da me ma da chiunque avesse conoscenze specifiche in questo campo. È evidente che oramai è la variante prevalente e che è anche la variante prevalente nelle persone che si rivolgono ai nostri ospedali in questo momento. Mi auguro fortemente che si riesca davvero a contenere le altre che ci potrebbero dare ancora maggiori problemi. Resta il fatto che l'inglese ha questa capacità di infettare maggiore e che questa capacità si riflette anche nell'avere più bambini, adolescenti e giovani che si infettano ed infettandosi possono portare, ahimè, l'infezione a casa, trasmetterla agli adulti e dagli adulti alle anziani. È una situazione che non avremmo voluto rivedere, ma non è la situazione del marzo scorso perché a marzo scorso eravamo attoniti di fronte a una marea montante assolutamente imprevista. Adesso attoniti non dovrebbero poterlo essere più, anche se qualche volta l'impressione che qualcuno non abbia capito come stanno le cose ce l'ho ancora. Abbiamo molti più strumenti di diagnosi, di cura, di intervento. Abbiamo, ahimè, le varianti. Ecco, il virus si è adattato lui e ha ricominciato, ripeto, a menare le danze, a guidare la gavotta in cui noi siamo nelle condizioni di avere comunque difficoltà. È chiaro e quindi noi dovremmo adeguarci a nostra volta ed è per questo anche la variante inglese che infetta anche i giovanissimi. Questo è uno dei motivi Michela Murgia per cui è stata decisa questa stretta sulle scuole, anche se il ministro dell'istruzione è bianchi, ha detto che non si possono chiudere le scuole e lasciare aperti i negozi. Che impressione ha avuto lei di questo primo DPCM dell'era Draghi? Che peraltro non c'era la conferenza stampa perché ricordiamolo c'erano i ministri Speranza e la Gelbini e gli esperti scientifici. Sicuramente è un brutto segno, è un segno economicista di breve termine perché è vero che le scuole sono luoghi del contagio ma esattamente come tutti gli altri luoghi. Ovviamente nessuno parla di chiudere le fabbriche solamente perché ci vanno le persone. È vero che le varianti colpiscono persone più giovani in maniera più incisiva, io non sono esperta di queste cose quindi non mi intendo neanche di numeri e di fare confronti, però allo stato attuale gli unici luoghi che sono veramente chiusi sono le scuole e i luoghi della cultura. Tutto il resto con limitazioni orarie continua ad aprire. Quelli della cultura, mi scusi se ricordo che stasera è stato ribadito che il 27 marzo verranno riaperti teatri, musei, su prenotazione eccetera, c'è cinema. Fino a questo momento però sono stati chiusi, si parla di un mese praticamente perché ormai siamo al 5, quant'è oggi? Il 3, non mi ricordo che giorno è con precisione. Il 2. Però sì, mancano quei 10 giorni, 25 giorni quasi, quindi direi che è comunque tra un mese. Quei luoghi sono stati ritenuti sacrificabili, è inutile che il ministro Speranza dica il più essenziale, il più essenziale è quello che resta aperto e se le scuole non garantiscono la presenza non sono il luogo più essenziale. Poi c'è una cosa che la ministra Gelmini ha detto molto grave, ha detto che quello che verrà preso come provvedimento a tampone saranno gli incentivi ai congedi parentali. Ora, i congedi parentali sappiamo tutti quanti che riguardano i contratti stabili, non riguardano le partite IVA, non riguardano i contratti atipici e colpiscono di più le donne dal mercato del lavoro perché essendo quelle meno pagate sono le prime costrette ad andare in congedo perché sono lo stipendio più sacrificabile in una famiglia, ammesso e non concesso che ce ne siano due in una famiglia. Quindi quel dato lì, oltre alla diseguaglianza generata dal fatto che i bambini non vanno a scuola, che è un luogo di eguaglianza anche perché ciascuno viene da situazioni diverse e quando va a scuola si trova nella stessa. Se non può andare fisicamente a scuola ciascuno rimane inchiodato alla sua diseguaglianza e al suo dislivello. A questo si aggiunge anche quello che colpirà le genitrici di questi bambini. Quindi ho trovato quella notizia particolarmente grave. Sì, hanno detto la Germini che il governo stanzierà oltre 200 milioni, però appunto alla fine sono sempre le donne. Beppe Severnini, alla conferenza stampa appunto c'erano Speranza e la Germini come ministri, gli scienziati competenti, ma non c'era il Presidente del Consiglio Draghi. Avrebbe dovuto esserci invece, te lo aspettavi? Su Draghi ti rispondo tra un momento. Stavo pensando a un italiano che magari era così in viaggio in qualche posto misterioso negli ultimi due mesi, ricompare, vede Speranza e Gelmini che gentilmente si danno la parola seduti allo stesso tavolo, è quasi surreale. Però portiamo un elemento, quando dicevo che il governo di salvezza nazionale vuol dire anche non litigare, lavorare insieme, è una cosa positiva. Beh, vederli due avversari politici così, lavorare insieme, essere insieme seduti allo stesso tavolo. Ti rispondo su Draghi. No, secondo me non era necessaria oggi la sua presenza, ci sono messe con i vescovi e messe col Papa, era una cosa anche molto tecnica oggi. Credo però che Draghi presto, dovrà rivolgersi a tutti gli italiani, perché si è rivolso al Parlamento due volte, lo sappiamo, ma rivolgersi a tutti noi, immagino a reti, come ha fatto Conte molte volte, lui dovrà farlo dicendo alcune cose. Guardate che un italiano su 20 è stato contagiato, guardate che ci avviamo verso i 100.000 morti, guardate che l'aspettativa di vita in Italia è scesa di un anno e mezzo. Questa è una cosa che è successo con la Seconda Guerra Mondiale, la mia generazione è sempre cresciuta, allora perché deve fare questo oltre? Perché è perché c'è un rischio di rimozione, magari uno guarda otto e mezzo, io oltre a esserci spesso, grazie, vi guardo, guardo sempre, chi guarda la televisione, leggi giornali e informato, ma c'è un grosso tentativo di rimozione. Draghi deve andare in televisione a dire, ehi, guardate che la cosa non è chiusa, e poi dire cosa vuol fare con le vaccinazioni. La scelta per la protezione civile, la sostituzione di Arcuri con un generale d'esercito, il generale Figliuolo, vuol dire che ha capito che di lì passa tutto, perché è vero che la UE ha sbagliato, magari chissà poi ne parleremo, è vero che le case farmaceutiche forse hanno fatto un po' le furbe, ma noi ci abbiamo messo del nostro, perché in Lumbria deve vaccinare un terzo del Piemonte, ti dico la prima cosa che mi è venuta in mente. Quindi, se riesce, vaccinazioni, se poi aggiunge il fisco, la giustizia, l'Italia per un anno, che è il limite di questo governo, loro lavorano sull'anno, sarebbe veramente molto, ma quando arriva in televisione deve dirci delle cose più che tecniche, da un lato sgridare chi va sgridato, rincuorare chi va rincuorato. Ha ragione Beppe Severnini, Michela Mugia, anche lei ha fatto impressione vedere questo tavolo della conferenza stampa con due avversari politici molto forti, Speranza, l'EU, Gelmini, Forza Italia, peraltro la ministra Gelmini ha ribadito più volte che non è una nuova formula politica, ma che c'è un nemico comune che è l'emergenza e che bisogna battere il virus, quindi le differenze politiche restano. Allora, Draghi dovrebbe intervenire in tempi rapidi, doveva intervenire già stasera e che impressione le ha fatto questo quadretto stasera? Il fatto che non ci sia in una conferenza stampa che non è vero che non è un accordo politico, è anche un accordo politico, perché inevitabilmente al di là del nemico comune le strategie per affrontarlo andranno concordate a partire da diversi interessi politici, quindi è ingenuo pensare che siccome siamo tutti nemici del virus ci metteremo d'accordo per un'unica strategia. Non sta avvenendo, lo stiamo vedendo. Il fatto che Draghi non ci sia è un modo per dire che io sto su un piano diverso da quello del governo. Il governo è fatto di politici, io mi occupo di questioni economiche e tecniche, quindi vedere lì quelle persone senza di lui è un modo come dire, ci sono delle cose di cui io non mi occupo. A queste decisioni qui stanno in capo alla squadra di governo. E' un modo così. Però questo è la battaglia contro il virus, vedo che anche Severnini non è d'accordo. Scuote la testa Beppe Severnini. Io avrei voluto vedere... No, scusami. Nel momento in cui viene messo un DPCM, io vorrei vedere la persona che ha firmato quel DPCM lì a spiegarla, non che mi mandi quattro tecnici... Dimmi, scusa. Beh, appunto Michela, questo è il suo primo DPCM e figuriamoci se dice questo non mi occupo di queste cose. Cacchio, firma. E lo firma lui e manda due ministri. Io credo che per il suo primo intervento lo farà probabilmente presto, prendendo dentro anche altre cose, oltre che le istruzioni tecniche per le prossime settimane e mesi. Poi sono scelte. Se ci fosse stato andava benissimo comunque. Però il fatto che non ci sia non mi sembra il problema adesso, sinceramente. Lei che idea si è fatto, Professor Galli, se mi vuole rispondere? Perché se no mi dice sempre che la tiro dentro domande politiche, ma ne aggiungo anche un'altra che diciamo non è politica. Quella dei vaccini, la sollevata Beppe Severnini. Sulla situazione dei vaccini non abbiamo avuto molte informazioni questa sera, anche perché questi vaccini ancora stentano ad arrivare. E proprio oggi due paesi dell'Unione Europea, l'Austria che è governata da Popolari e Verdi e la Danimarca che è governata da Socialdemocratici, hanno deciso di cercare i vaccini al di fuori degli accordi dell'Europa. Fanno bene? Dovremmo farlo anche noi? Lei pensa che il Presidente del Consiglio Draghi dovrebbe, come si suol dire, metterci la faccia ogni volta che ci sono dei decreti della presenza del Consiglio dei Ministri? Ma io ritengo che il Presidente Draghi abbia fatto una scelta per cui credo sarà presente e sarà presente su questioni in cui riterrà necessario dare messaggi molto importanti e senza possibilità che ci possano essere discussioni o scarse chiarezza in proposito. Per quanto riguarda il DPCM è sicuramente importante, ho appena finito di dire che secondo me non è improbabile che possa essere cambiato in corsa. Più importante sarà che magari dia un secondo messaggio dopo il primo già rilevante che ha dato sui vaccini. Per quanto riguarda il discorso di fare il vaccino all'italiana, io francamente nel momento in cui fosse ancora possibile resistere a questo tipo di tentazioni resisterei, ritengo che la via maestra rimanga quella di ottenere attraverso l'Europa il vaccino necessario, le posizioni di due Paesi non grandi dal punto di vista dell'estensione e della popolazione come quelli che hanno preso una decisione oggi. Si spiega anche in parte proprio per il fatto che comunque il quantitativo di vaccino a loro necessario non è enorme per risolvere il loro problema, ma non fa un buon effetto rispetto alla unità in generale dell'iniziativa dell'Europa messe già abbastanza in crisi da altre uscite come, non so, quell'ungherese per fare soltanto un esempio. Resta il problema serissimo dell'approvvigionamento dei vaccini sia a breve che a lungo termine e perlomeno per il discorso a medio o lungo termine ribadisco che ritengo che sia necessario prendere dei provvedimenti che ci consentano una discreta autonomia. Ma quale potrebbe essere un provvedimento efficace, professor Galli? E con tempi medio o lunghi purtroppo l'adeguamento di impianti italiani alla produzione di uno o più dei vaccini su licenza, di uno o più dei vaccini attualmente in uso e degli eventuali loro aggiornamenti, sottolineerei degli eventuali loro aggiornamenti. Perché andranno aggiornati man mano che il virus muta. Avendo una volta tanto l'occhio lungo, insomma. Certo, certo. Potrebbero e comunque non ci dobbiamo far trovare impreparati perché altrimenti il vaccino come strumento di redenzione generale rischia di essere uno strumento invece di sofferenza e maledizione, voglio dire. Chiaro. Sto esagerando, chiaramente. Certo, certo, no, no, ma è chiaro il concetto. Beppe Severnini e poi Michela Murgia. Quindi il professor Galli ci sta dicendo no al sovranismo vaccinale. Tesi invece molto sostenuta, mi verrebbe da dire, naturalmente da Salvini che oggi ha prontamente detto l'Europa sui vaccini ha fallito. Seguiamo l'esempio dell'Austria, della Danimarca. Beppe Severnini. Oltre a ribadire che Salvini deve smettere di fare opposizione al governo di cui fa parte, ma questo l'abbiamo detto, lo abbiamo ridetto e mi sa che dovremmo dirglielo ancora, ma intanto lui se ne frega, io penso che dobbiamo resistere. È chiaro che qualcosa non ha funzionato. Io ricordo che l'Economist già un paio di mesi fa continuava a dire guardate che questi contratti con le case farmaceutiche non sono stati fatti bene, non richiedono l'obbligo, queste sono obbligate a fare il meglio possibile, ma non sono obbligate alle consegne. È anche vero però che è talmente chiaro il problema, oggi ho letto che stanno arrivando 300 milioni di vaccini Moderna, quindi si tratta di tenere un mese e mezzo o due, perché tra aprile e maggio mi sembra di capire che questi vaccini dovrebbero arrivare. Questo è importante. Poi se Orban si fa il vaccino cinese o russo, tu mi hai chiesto Lili un mese fa, tu lo faresti il vaccino Sputnik? Io ti ho risposto, certo, quando viene approvato dall'Agenzia Europea dei Medicinali, che è lì apposta. Io faccio giornalista, figuriamoci, io un vaccino che non viene approvato dall'autorità sanitaria europea, non solo non me lo faccio io, ma se avessi un incarico pubblico, ma ti sembra che qualcuno che sia un capo di governo europeo possa prendersi questo rischio? Io non me lo prenderei. No, però Salvini, credo che sia già andato nella Repubblica di San Marino perché gli usano lo Sputnik, il vaccino russo, ma come già lei ci spiegò, Professor Galli, la scorsa settimana, fin quando non ci sono le evidenze, i documenti scientifici, è chiaro che non è che uno Stato, un Paese può pensare di somministrare un vaccino che non è stato, diciamo, validato, tra l'altro su fronte dei vaccini. Non un Paese serio, no? È certo, è certo. Tra l'altro questa sera il professor Locatelli del CTS ha anche detto che chi ha avuto il Covid per queste persone, e sono più di due milioni in Italia, basta una sola dose di vaccino e questo significa che, insomma, c'è un'altra parte. Finalmente! Sì, sì, che vuol dire che, insomma, potranno essere vaccinate due milioni di persone in più intanto e subito. E secondo me non occorre neanche quella. Professor Locatelli ha detto che una sola dose invece bisognerebbe somministrarla. Michela Murgia, questo... Non è la mia opinione. Lo so perché ce l'aveva già detta varie volte. Magari poi alla fine avrà ragione, come sempre lei, devo dire che ha sempre avuto ragione. Lei è ospite da noi ormai da un anno e è stato tacciato di troppo pessimismo, di essere troppo politico, eccetera, eccetera. Però poi alla fine il professor Galli ha sempre avuto ragione. Michela Murgia, Salvini e il sovranismo vaccinale, che rischi può rappresentare? Intanto io tenderei a non accogliere consigli di politica vaccinatoria dall'uomo che per tutta la prima fase del contagio non portava neanche la mascherina in pubblico e con estrema disinvoltura si faceva i selfie con i suoi fans. Quindi da questo punto di vista non direi che è lui il mio riferimento sulle scelte vaccinali. Credo che l'Europa stia facendo delle... ci siamo divisi le risorse, abbiamo preso delle decisioni comuni per quel che riguarda i soldi, per quel che riguarda le attributi. L'Italia ha preso tanto anche dall'Europa. Credo che sia giusto anche condividere la politica vaccinale come soggetto unico. Frantumarsi, dopo aver preso i soldi di tutti, procedere per vie individuali verso il vaccino mi sembra anche scorretto, anche sleale da un certo punto di vista. Beppe Severnini, questo governo di unità nazionale, come ha anche sottolineato di nuovo oggi sia la ministra Gelmini che il ministro Speranza, che anche Draghi attraverso la sua portavoce Lansuini, che è importante lo spirito di squadra e questo è quello che conta, però non farà bene a tutti i partiti allo stesso modo perché i 5 Stelle sembrano essersi ripresi abbastanza rapidamente avendo deciso di dare a Conte la leadership dei 5 Stelle. Chi invece è sotto attacco continuamente è il segretario del PD Zingaretti. Quindi che cosa dovrebbe fare questo partito democratico per non vedersi prosciugare dai 5 Stelle riorganizzati da una parte e dall'altra da questo governo di unità nazionale? Ma la vicenda del PD è stupefacente perché se ci pensi gli unici che non hanno dovuto abbiurare nelle ultime settimane è il PD perché l'Europa più o meno dice le stesse cose sui vaccini, sulle chiusure a differenza degli altri che hanno praticamente detto il contrario tutti, 5 Stelle, Forza Italia, La Lega di quello che dicevano prima Matteo Renzi e quindi un partito che potrebbe dire noi alla fine siamo stati coerenti se è il più allo sbando di tutti perché tutti sembrano avere un'agenda di qualche tipo poi la vedremo se l'agenda dei 5 Stelle con Conte leader funzionerà vediamo se l'agenda della Lega che mi sembra chiaramente vuole provare con Giorgetti a presentarsi come un partito di destra elegibile da tutti eccetera eccetera Renzi misteriose anche lui quando non va in viaggio dove non dovrebbe anche lui sembra avere qualche idea ce l'avrà perché le ha sempre non dovrebbe andare in Arabia Saudita se vergini Renzi non dovrebbe andare in Arabia Saudita non dovrebbe andare perché è un senatore della Repubblica Italiana è leader di un partito per quanto piccolo molto importante però perché lo è stato negli ultimi due governi a prendere soldi sotto contratto di un governo straniero per di più di un governo come l'Arabia Saudita per di più fare le lodi del loro costo del lavoro del rinascimento Renzi è una persona intelligente io non capisco e qualcuno mi deve spiegare magari Michela mi aiuta perché non dice ho fatto una stupidaggine ho sbagliato scusate punto non è che poi lo no continua si fa le interviste da solo per sostenere l'insostenibile io non giuro che non capisco vediamo se invece Michela Murgia ha capito anche perché appunto o fa il senatore pagato con i soldi dei contribuenti in Italia oppure fa il conferenziere come hanno fatto in tanti ex presidenti del consiglio dopo aver abbandonato l'attività politica le due cose sembrano un po' molto poco non compatibili credo che Beppe Sevenini trascuri la iubris la tracotanza caratteriale di Matteo Renzi devo dire che non esiste nessuna legge italiana che vieta un senatore della nostra repubblica di percepire dei denari da governi o enti paragovernativi di altri paesi per quindi tecnicamente lui non sta commettendo un reato o una scorrettezza legalmente perseguibile è una questione di buon gusto è una questione di se vuoi di alto profilo etico politico ma anche da statista perché comunque è membro della commissione difesa e noi vendiamo delle armi fino a poco tempo fa insomma le abbiamo vendute perché le armi che venivano tirate sullo Yemen venivano prodotte in Italia gliele vendevamo noi quindi già questo configura un potenziale conflitto di interessi fino a quando anche un buco legislativo perché finché non ci sarà questo divieto se fosse stato un deputato non l'avrebbe potuto fare perché un deputato non può farlo ma un senatore sì quindi il fatto che prima di Renzi nessuno l'abbia fatto non significa che dopo Renzi nessuno lo farà più quindi io mi preoccuperei di mettere un divieto per il resto non credo che Renzi pagherà alcun pegno per quello che ha fatto fosse un paese che chiede conto di questo tipo di coerenze Renzi sarebbe già stato costretto a dimettersi e invece col suo 0,00 non possiamo stabilire quanto valga adesso elettoralmente l'Italia viva sta di fatto che ha disfatto un governo e ne ha fatto un altro quindi non un bel biglietto da visita comunque per il nostro paese questo senta Michela Murgia è uscito oggi il suo nuovo libro che si intitola Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo più sentire è pubblicato da Inaudi è un prezioso piccolo manuale non solo per le donne per combattere i più orribili stereotipi luoghi comuni sulle donne è veramente molto molto prezioso mi dice qual è il luogo comune peggiore? il peggiore per quel che mi riguarda è spaventi gli uomini tutte le volte che esprimi una posizione netta un'opinione e magari a contrasto tutti vengono a dirti a descriverti il genere maschile come un genere fragile che va protetto dalle donne che non va contraddetto perché altrimenti si sgretola ecco credo che questa sia anche una brutta immagine degli uomini come creature fragili per cui davanti a ogni donna che ha una posizione meno che a condiscendente vanno in palla e non si raccapezzano più insomma credo di più negli uomini sì anche lei vero professor Galli non ho più tempo per darle la parola ma sono sicura che lei è un uomo dalla parte delle donne e comunque lo legga questo stai zitta perché è anche oltre a essere un prezioso manuale è anche molto a tratti anche molto ironico e divertente Beppe ti faccio paura io hai paura di me ti spavento no mi stai simpatica mi piace discutere con te ma lo sai sì anche perché Beppe Severnini è abituato ma sono le mamme le zie e le amiche che dicono queste cose e comunque posso dire per Beppe Severnini che ha accanto una donna una moglie che diciamo caso mai li dà del filo da torcere quindi insomma delle donne come una donna come noi allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro a un anno dallo scoppio della pandemia torniamo alla pandemia è ancora non risolto il problema dei preziosi dati guardate Giorgio Alleva e Alberto Zuliani entrambi ex presidenti dell'Istat da un anno si battono inascoltati perché sulla diffusione del coronavirus vengano fornite informazioni più complete in particolare i due ritengono che manchi un sistema di raccolta statistica dei dati con un campionamento idoneo a seguire l'evoluzione dell'epidemia Alleva e Zuliani sono tornati a farsi sentire con un intervento sulla rivista Etica Economia si chiedono se i dati comunicati giornalmente siano utili per capire come sta evolvendo il covid-19 e la risposta è no talvolta si tratta di dati in apparenza paradossali come quelli registrati tra il 15 gennaio e il 19 febbraio in Sicilia quando su 541.000 test rapidi somministrati non è stato segnalato alcun caso positivo mentre sui tamponi invece il tasso di positività è risultato pari a 9,6% uno dei valori più alti fra tutte le regioni dicono poco ai due studiosi anche i numeri forniti tutti i giorni sui ricoveri visto che non si sa se le uscite dai reparti in particolare dalla terapia intensiva sono dovute a trasferimento guarigione o decesso anche i dati sulla mortalità per covid-19 non convincono Alleva e Zuliani che la ritengono sottostimata la questione dei dati e della loro trasparenza in questo caso per quanto riguarda la scuola viene sollevata oggi in un'intervista al Corriere della Sera dal fisico Giorgio Parisi presidente dell'Accademia dei Lincei dubbi analoghi hanno spinto 300 professori universitari riuniti nell'associazione lettera 150 a chiedere l'accesso ai dati in base ai quali viene stabilito il colore delle regioni il ministero non ha risposto e ora anche questa disputa è nelle mani del Tar del Lazio grazie siamo in chiusura grazie professor Galli grazie Beppe Severnini grazie Michela Murgia ricordo il suo nuovo libro uscito proprio oggi stai zitta pubblicato da in Audi grazie spettatrici spettatori vi lascio a Floris al suo di martedì quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci grazie